La seguo, la seguo Oh 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 Grazie a tutti! Grazie di esistere! Oh figlio Renato Zeri arrivato eh! Grandi! Grandi Renatini che c'hai? Che tiene? Grazie comunque! Che degno tu da mazza di scopo? Grazie allo Siscio! Ma che fascisti che è qui? Ma che bui? Che è questo? Che fa? Ma chi si? C'è un po' un barco che è? Ma chi si? Tu chi si? Io sarei tuo padre? Eh ma io non riconosco l'autorità Oh no! Gioventù bruciata e ribelle! Chiamma Pippi! Pippi chi è? Pippi! Che è quelha che sono? No! Pippi! Pupiace! Pupiace! Dice? Chiamma L'Evvadananziano! Le parole punteggiate! Si stanca di l'intero! Andiamo a casa di riposo! Andiamo a spostati via! Scusa bambina! Quanti anni hai? 15? Chiamma Pronto lo chiamma L'Evvadananziano! Pronto? Perché li so'curti, li so'cicano! Ehi capite! Ma è tutto calmo! Chiamma L'Evvadananziano! Ciao mamma! Ciao mamma! Tanti auguri! Eh, dopo devo fare prima la canzaccina! No, non dà! Oh, devo fare prima la canzaccina! Eh, amore, sai che di quello si deve esibire! Guarda com'è bellissimo! Pettono, che ti chiedo scusa, che ti manca di una rosa, che ti manca di una sposa! Pettono! Buon da buon da buon! 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 Grazie a tutti, grazie di esistere! Grazie! I love you! I love you! Forza! Spendiamo queste canterine da quindici anni! Passammo ai riciotto e le fate mananza all'ucchio! Forza! Buongiorno! Io sono la nonna del bambino! E chi è questo signore? Mamma! Questo signore è il bambino! Ah, così grosso! No, è che è un po' sovrappeso! Però com'è bello! Attilio! E come fanno loro queste creature? Allora questo è Emilio! E mi pare un pupazzetto con la gordo! Emilio! Vieni un pupazzetto con la nonna! Ma mi pare un pupazzetto con la nonna! Ma mi pare un pupazzetto con la mia nonna! Sto dicendo che questo è come se fosse mia nonna ma non mi assomigli proprio! Ma come può assomigliarti? È mia mamma! Infatti nonno io sono l'evoluzione della specie! Sì sì! È nato cefalo e muore merluzzo! Grazie nonna! Grazie nonna! Ebbà! 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 Mi scambio marito a te! Mi scambio marito a te! E mamma mia! Pizzeri io sono stata mezza fra gola 89! Si è piazzata al secondo posto! Poi si è mangiata la prima classificata e si è fatto vestita! Quindi occhio! Giovanotto! 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 Patti aspetta! Chiedi scusa a zia Ticchio! Chiedi immediatamente scusa! Allo cibo potete dire che vuoi? Eh, non me chiede scusa! Non ti chiede no! Noi allora fammi fare un dopo! Che vuoi fare? Gli devo dare una buona lezione! Chiamrà! Come il tuo solito! come modo a modo migliore questo è tuo giovanosto non mi costringere a diventare violento io sono tuo zio portami rispetto se no se no ti botto a mia moglie un cuor guarda non ti spaventare guarda come trema ma tu hai fatto il coraggioso ma non sto tremando ammettilo no mi è arrivato un sms con un cellulare la vibrazione questo è un regalo di un amico mio carissimo che si chiama carlo come si chiama? carlo 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 che problema c'è? che problema c'è sta? sta qua dove sta? sta in casa tu non devi portare persone in casa ma chi si? io te la caccio a caccio dottore avevamo detto che questa imbecille non sarebbe più rientrata ah come femminuccia perché che?